Cominciamo a parlare dal nuovo corso del PD dopo la svolta con le dimissioni di Veltroni e l'insediamento di Franceschini alla guida del PD, come cambieranno e se cambieranno i rapporti tra il suo partito, l'Italia dei Valori e i democratici? L'Italia dei Valori non ha mai inteso cambiare rapporti, né col Partito Democratico e la sua dirigenza, né soprattutto con gli elettori. L'Italia dei Valori è sempre stata coerente a quel che è stato il mandato ricevuto, opposizione dura, determinata, certa, chiara nelle parole, determinate nel linguaggio oggi e programmare un'alternativa di governo domani. L'Italia dei Valori sa che da solo non può farcele, sa che sbaglia il PD quando pensa che può farcele da solo, sa soprattutto che ha sbagliato il PD quando ha pensato di dialogare con Berlusconi su temi fondamentali come la giustizia e la questione morale. Per questa ragione, Franceschini, Veltroni, li aspettiamo alla sostanza delle cose e però non li aspettiamo e basta. Nel frattempo noi ci sentiamo al fronte e ci impegniamo a fermare questa deriva di regime che il governo Berlusconi sta portando avanti. Lei parlava appunto di giustizia, in aula alla Camera da ieri il disegno di legge sulle intercettazioni le regolamenta ma anche ne restringe il campo di applicazione e l'utilizzo. Questo è un tema su cui voi state facendo una dura battaglia, così? Non le regolamenta per niente, semplicemente fa in modo che le intercettazioni non siano più uno strumento per combattere la criminalità. Per questa ragione l'Italia dei Valori, insieme a un altro pacchetto di interventi, le sottoporrà al vaglio degli elettori con un referendum. Non le regolamenta per niente, perché in quel provvedimento sono inserite questioni che nulla cedono con l'intercettazione, due soprattutto. Fino a oggi a voi giornalisti era previsto il bavaglio sulle informazioni non gradite, da domani è andato in galera, non lo sapete ma ve lo ripeto, è andato in galera. E però reagite allora, l'Italia dei Valori lo farà, perché anche su questo farà il referendum, proprio a garanzia del diritto di stampa, con le intercettazioni, direbbe il vecchio Di Pietro, che ci azzecca questo provvedimento? Stiamo parlando di pubblicazione. In quel provvedimento c'è un'altra norma che prevede che basta che un imputato denunci il suo magistrato e il fascicolo si deve spostare ad un altro magistrato di un'altra corte di appello, vale a dire che ogni imputato, ogni volta che non gli va bene un magistrato, lo denuncia fino a quando trova uno che gli va bene e se non lo trova fino a quando non va in prescrizione, perché una cosa è un fascicolo di 4 pagine, una cosa è un fascicolo da un milione di pagine, chi lo legge e mentre lo legge, quando il magistrato si è rifatto un'idea, lo risostituisce un'altra volta l'imputato, questo con l'intercettazione non c'entra nulla. Senta, un altro tema su cui si sta discutendo molto in queste settimane dopo la drammatica vicenda soprattutto di Eluana Englare è quello che riguarda la regolamentazione del cosiddetto fine vita, le leggi sul testamento biologico in discussione al Senato, qual è la vostra posizione su questo tema? È il terzo referendum che insieme a quello sulle intercettazioni, a quello sulla libertà di stampa e a quello sul finanziamento dei partiti che metteremo in campo questa primavera, questa estate, perché? Io sono un cattolico, io personalmente oggi non me la sentirei né di staccare né di fare staccare a qualcuno la spina, ma io ho diritto di decidere per lei, per lui, per l'altro, per l'altro. Giovanni Paolo II ha detto lasciatemi andare dal Signore, Paolo VI ha detto la stessa cosa, io da buon cattolico dico che ognuno ha diritto di vivere, ma ha anche diritto di morire dignitosamente e che dalla sua vita ognuno è padrone e risponde davanti a Dio e non per legge a questo, a quel legislatore che per convenienza si fa una legge, per questo noi ogni norma che impedisce al cittadino di autodeterminarsi, lo riteniamo una norma incostituzionale, illegittima e anche incivile e per questa ragione promuoveremo un referente. Senta, un'ultimissima domanda, in questi giorni, anche in seguito all'insediamento di Franceschini, si è aperto nuovamente un dibattito, una polemica rovente tra Franceschini e Berlusconi proprio sulla questione della Costituzione, accuse reciproche, lei che nelle settimane scorse è stato comunque protagonista più o meno involontario anche di un braccio di ferro come dire a distanza con il Quirinale, che ne pensa? Io penso che Berlusconi nei fatti stia mortificando la Costituzione e si accinge ad attentarla, nei fatti perché ha bloccato l'informazione con una legge prima a Bavaglio e poi Manettara, ha bloccato il funzionamento delle Camere, oggi dobbiamo discutere ancora una volta un voto di fiducia su un mille prorago che serve a niente se non a farsi gli affari propri, ha bloccato il sistema elettorale per cui i parlamentari si risceglie lui come e quando vuole lui, ha bloccato il funzionamento della giustizia sia con norme che impedisce ai processi di scoprire gli assassini sia con norme che criminalizza i magistrati, ha bloccato nel complesso anche l'economia perché toglie ai poveri e dai ricchi all'Italia docet, per questa ragione è il modello classico che va verso il regime sudamericano ad un tempo, in noi dell'Italia ai Valori c'è la determinazione a fare resistenza oggi, alternativa domani e per questa ragione, mentre Franceschini discute cosa fare da grande, noi oggi ci impegniamo a fermare quel che non è grande ma è grosso e incompranto per il nostro Paese, il governo Berlusconi. Grazie allora onorevole Di Pietro, buon lavoro, grazie per essere stato con noi, buon caffè, grazie.